Una giornata dedicata alla canapa. Il Circolo Ara Cichinotto di Borgo Masotti, dopo l'esperienza del 2017, torna anche quest'anno a proporre il format Coltivati. Domenica 4 novembre il Circolo ospiterà un dibattito dedicato alla canapa, argomento che verrà trattato dal punto di vista industriale, medico, anche dal punto di vista dei pazienti, tessile e ludico. Non mancheranno i momenti di intrattenimento. Ospiti il comico Filippo Giardina, con lo spettacolo Lo ha già detto Gesù, e il gruppo musicale Action Man. L'appuntamento è Coltivati, è già la seconda edizione che svolgiamo. Si svolge al Circolo Ara Cichinotto di Borgo Masotti, che molti di voi conoscono quasi tutti in tutto il mondo. Ci ospiteremo Filippo Giardina, gli Action Man, uno spettacolo di stand-up comedy e un concerto di punk rock. Ma soprattutto si parlerà di canapa, con l'utilizzo industriale, tessile, soprattutto medico e anche ludico, con alcuni ospiti dalla Dolce Vita, medici, associazioni di riferimento e altri ospiti. Come mai la decisione di questo argomento? Sono anni che andiamo dietro a questo argomento, crediamo che ci sia bisogno di svilupparlo da altri punti di vista, siamo ancora molto indietro in Italia quando si parla di questo argomento. Noi crediamo che sia il momento di affrontarlo diversamente e soprattutto con cognizione di causa. Un argomento che in certi punti di vista è ritenuto anche un po' spinoso, vi aspettate un po' di polemiche a riguardo? Ma è ritenuto spinelloso più che altro, ci aspettiamo polemiche, ci aspettiamo la solita ottusità italiana, tra virgolette, ma l'anno scorso l'edizione è stata splendida, quindi ci auguriamo che raccolgano in molti il segnale, anche perché non è una festa classica sulla canapa, ma è una festa ragionata in modo diverso. Mentre ci appuntamenti culturali, prima lei accennati, se riesce a darci qualche dettaglio in più? Sì, ci saranno Filippo Giardina, appunto stand-up comedy, fondatore di Satiriasi a Roma, lo spettacolo è vietato ai minori di 18 anni, proprio per gli argomenti che tocca e per la libertà che si prende nell'esprimerli. E poi gli action men, gruppo che conoscono tutti a Ravenna, punk rock, che noi piacciono molto, così per festeggiare alla fine, come si deve.